questo film nella mia top 3 insieme a 2001 di allo spazio ci sono i blues braver poi il terzo posto è libero lasciato alla contingenza a volte al terzo posto ci può essere un film di truffo di dryer quando sono particolarmente impegnato a volte c'è l'allenatore nel pallone oppure i tartassati contro 2 fabrizio terzo posto libero vi consiglio quando fa delle vostre classifiche lasciate sempre una posizione libera per per ogni eventualità allora rohan rohan dennis a vito oggi sorprendete per me perché davo per favorito du moulin ne ho seccato un altro anche du moulin ieri favoritissimo nella crono vince dennis allora dennis finora già maglia gialla maglia rosa vincitore di tantissime cronometro però non aveva vinto mondiale e finora mi permetto di dire la sua il suo successo massimo nella sua carriera era stato sposare melissa hoskins che è un ex ciclista pistard molto simpatica simpaticissima e anche parecchio carina mi sembra strano che nessuno ne abbia fatto cenno oggi nella telecronaca mi aspettavo un fuori onda un intervento in voice over della de stefano che ricordasse questo questo gossip che invece è mancato i voice over della de stefano credo che diventeranno patrimonio dell'unesco prima o poi allora vito rohan dennis davanti a tom du moulin ben un minuto e 21 gli ha rifilato all'olandese poi terzo il belga campenars 1 e 22 praticamente lo stesso tempo i du moulin quarto qui a kowski che si presenta insomma bene per la prova in linea e poi oliveira castrovieco toni martin gli italiani ventottesimo de marchi trentesimo felline fabio felline o fabio felline come diceva anni fa il grande gianni sapio du moulin visto accigliato come nei suoi giorni peggiori sul podio veramente mi ha fatto finalmente ricordare ecco questo suo questa sua sconfitta di oggi in opinate servita a ricordarmi chi mi ricorda finalmente sono riuscito a definire la somiglianza allo stesso taglio degli occhi di luke merenda du moulin e il luke merenda del ciclismo cercate su google o dove vi pare luke merenda e guardate se non è il socio di du moulin ai poliziotteschi della crono dico poco e niente anzi ho già detto tutto già detto più di quello che avrei dovuto dire una cosa dovevo dire avete presente quando andate al ristorante fate un bel pranzo mangiate bene mangiate tanto poi alla fine arriva il conto 7 mila euro ecco è come quando guardate una bella gara ciclistica comunque oggi la crono è stata interessante è stata bella da vedere da seguire e poi alla fine alle premiazioni chi compare renato di rocco a fare le premiazioni mamma mia ho seccato un altro seccato du moulin durante la vuelta se mi avete seguito è in balsa questa credenza da parte innescata da alcuni utenti che ci seguono nei commenti dei nostri video che insomma sono un po un gufo ma non è così in realtà faccio dei pronostici a volte ci prendo a volte no al giro ci ho preso abbastanza alla volta non ci ho preso per niente al tour anche eh thomas non lo davo vincente però insomma il mio bilancio in attivo l'anno scorso durante il tour de france invece una società con tre amici investirono ognuno 50 euro e alla fine ho fatto vincere a tutti 13 euro e 50 chi vi dà un ritorno dell'investimento di più del 20 per cento quasi 25 per cento in 20 giorni dai nessuno mosca che mi segue spesso nei video potrà confermare nei commenti se non è così 13 euro io ho fatti ricchi allora oggi più che del ciclismo mondiali si è chiusa la fase dell'e cronometro domani si apre la fase delle gare su strada con le prove juniors quest'anno la novità interessante mi piace è che non c'è il giorno di distacco senza gare che era il giovedì si faranno le gare di juniors domani venerdì gara under 23 sabato gara domenica l'attesissima gara maschile bene così allora ieri ieri sera con tempismo perfetto per i giornali direi è uscita la notizia dell'approvazione della riforma dell'usei oh la grande riforma che aspettavamo il piano quinquennale che quinquennale da villa portiano poi non dite che non che io lo chiamo lo definisco il grande fuffo ma è il grande fuffo allora guardiamo un attimo i termini di questa riforma attesa come quella doveva cambiare il volto al ciclismo allora andiamo con ordine leggo da ciclo web da quello che è stato pubblicato ieri sera dai miei colleghi del sito allora calendario delle gare è diviso in tre categorie world tour pro series che comprende le attuali gare hc cioè os categorie e punto 1 categoria punto 1 e continental quindi sostanzialmente è la stessa suddivisione che c'è oggi cosa c'è nel world tour i tre grandi giri altre corse a tappe importanti e poi le cinque classiche monumento e un'altra decina o quindicina non ho capito bene di gare in linea quindi tutto uguale praticamente le monumento e le corse in linea andranno poi a formare una categoria a sé le classic series così chiamate che di fatto è una coppa del mondo quindi l'appartiene riesuma l'antica coppa del mondo va bene 185 giorni di gara ci sarà un ranking unico non c'è più il ranking world tour poi il ranking continuale ci sarà un unico ranking dell'usei come succedeva fino al 2004 ultimo anno pre pro tour e quindi lì confluirà tutto atleti nazioni squadre una novità straordinaria allora licenza triennale per tutti sia gli organizzatori che le squadre si parte nel 2020 con questa questa riforma andrà al regime nel 2020 allora i team anche per loro licenza triennale tre categorie per i team eh l'avresti mai detto secondo me indovinate anche quali categorie world teams pro teams che attualmente si chiamano professional e continentale ammazza la novità ogni tre anni dice la riforma dalla fine del 2019 in avanti ogni tre anni verranno distribuite queste 18 licenze world tour perché saranno 18 licenze world tour altra grande novità eh ma è tutto uguale ci prende per il naso l'appartiene allora queste 18 licenze world tour saranno distribuite in base a cinque criteri etico amministrativo finanziario organizzativo e sportivo quindi ci sarà anche un criterio sportivo per attribuire le licenze però non è spiegato ancora in che misura peseranno i vari criteri è tutto rinviato ai tra virgolette decreti attuativi è un sistema aperto perché dice l'appartiene la sua riforma ogni tre anni quando distribuiamo le licenze valuteremo sia chi ha già una licenza e quindi dovrebbe essere riconfermato nel world tour sia chi invece si candida a entrarci e verranno scelti i migliori in base a questi criteri non dice l'appartiene cosa succede se per esempio alla fine dei tre anni ci sono meno squadre di 18 che vogliono stare nel world tour perché magari i costi sono troppo elevati eccetera voi dite ma questa è fantascienza no in realtà è quello che è successo fino all'altro giorno praticamente meno squadre rispetto alle licenze disponibili meno sponsor interessati a entrare nel world tour rispetto alle licenze disponibili cosa succede se ci sono meno squadre perché uno perché uno sponsor dovrebbe investire su un piano triennale per andare in competizione con i team che hanno già la licenza world tour senza avere magari la garanzia poi di averla questa licenza perché alla fine si deciderà non lo so si deciderà in quali termini si deciderà tutto molto fumoso va bene voi dite ma aspetta i decreti attuativi prima di giudicare ma come si fa è tutto uguale praticamente uguale tutto uguale solo che la licenza adesso nel produrre era di quattro anni adesso di tre anni con la nuova riforma cosa cambia cambia che i due migliori team professional pro teams avranno il diritto a gareggiare nei grandi giri l'anno successivo e i migliori tre team dei professional pro teams avranno il diritto a gareggiare negli altri eventi del world tour quindi le classiche eccetera le grandi classiche mancano importanti dettagli ci dice sebastiano cipriani allora questa è l'unica l'unica cosa insomma l'unica novità è dare un diritto sportivo a chi si è piazzato ai primi posti però io ipotizzo una squadra francese come la direct energy o come la cofidis che magari allestisce sempre un'ottima squadra a livello di professional attualmente così e si via e vince la categoria pro teams nel 2020 2021 avranno interesse a fare tour de france ma non magari il giro d'italia che avrà il diritto di partecipare non il dovere del resto se avesse il dovere se le squadre che vincono il pro team diciamo la categoria le pro series l'anno successivo partecipano a tutte hanno il dovere e diritto di partecipare a tutte le gare del world tour alla fine è come avere un world tour a 20 squadre quindi un controsenso in termini avranno il diritto e non il dovere di partecipare quindi sceglieranno saranno una posizione abbastanza privilegiata questo mi fa pensare che chi vuole investire nel pro series investirà nelle pro series senza avere la necessità di entrare poi nel world tour non lo so va bene ragazzi questa è la riforma ma che riforma è tutto uguale cioè non cambia niente mi viene da rimpiangere nella sua nel suo essere pessimo il vecchio buonanima heimberg bruggen lui sì che fece una riforma che rivoltò il ciclismo come un calzino e la fece e la portò avanti magari non lo rivoltò nella direzione che a noi piaceva o che a noi è piaciuta o che ha favorito il ciclismo italiano però l'ha rivoltato ha avuto il coraggio di cambiare totalmente radicalmente il ciclismo invece queste riformine di la portiamo non servono assolutamente a niente perché non cambiano nulla del sistema nulla non cambiano niente tre categorie come oggi 18 squadre world tour come oggi ditemi voi se una riforma si deve ridurre nel cambiare il nome della categoria da professional a pro teams ma andate dai ragazzi ci vediamo domani con le gare juniores io vi saluto andate a cercare luco merenda su google rohan ciao 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 ciao